Emma Marrone. Confessioni su Domenica In. Nell'ultima apparizione a Domenica In. Emma Marrone ha svelato il motivo della sua scelta di rimanere single fino ad ora. La cantante, famosa per la sua riservatezza sulla vita privata, ha affermato con sincerità. Sono completa già da sola. Non ho bisogno di qualcuno. E se dovesse arrivare vorrei un uomo che non si senta minacciato dai miei successi. Questa dichiarazione offre uno sguardo inedito sulla sua visione delle relazioni. Emma ha avuto una storia importante con Stefano De Martino in gioventù. Ma da allora ha mantenuto segreta gran parte della sua vita sentimentale. Sebbene sogni di trovare un grande amore in futuro, ha anche sottolineato che non si sente meno completa senza di esso. Ha spiegato. Spero che un uomo arrivi. Ma non per forza mi sento incompleta senza qualcuno al mio fianco. Durante la sua partecipazione al programma, Emma ha anche affrontato un argomento doloroso. La recente perdita di suo padre. Ha condiviso la difficoltà di vederlo soffrire e l'importanza del suo rapporto con lui. Ha detto. La cosa più difficile è stata vedere il mio supereroe diventare sempre più piccolo. Mi ha fatto molto male vederlo soffrire così tanto. Mio papà era il mio migliore amico. Con lui mi sono divertita tanto. Non è passato un giorno senza che non gli abbia detto ti amo. Queste rivelazioni hanno suscitato un grande interesse sui social media. Con molte persone curiose di saperne di più sulla vita privata di Emma Marrone e sulla possibilità che possa aprirsi ulteriormente in futuro.